Allora, io ieri ho parlato con una persona che è molto all'interno della Juve che mi dice che alla fine di quest'anno, anche se Allegri, dico anche se, dovesse vincere tutto quello che c'è da vincere, si siedono a tavolino e si stringono la mano. Ah! Questo è quello che mi ha detto questa persona. Quindi sarebbe l'ultima stagione, a prescindere da come vada. A prescindere da come vada, però è una cosa che ha un suo fondamento probabilmente perché hanno capito all'interno della società che un tipo di percorso del genere non è adatto a un tipo di allenatore così.